Questo spettacolo è un escursus nel mondo della comicità, nel senso che partiamo dai nostri nonni, ecco, lo stile di vita a paragone con i giorni moderni, tutto sulla chiave ovviamente comica, come è il nostro duo. Sarà un alternarsi di sketch e di momenti di riflessione, sempre con la chiave ironica. Era così che Alessandra Falci annunciava ai nostri microfoni insieme a Michele Priviterra qualche giorno fa lo spettacolo in programma nel quartiere San Luca il 21 settembre, ma spostato poi a causa del maltempo. Si esibiranno adesso martedì 4 ottobre con lo spettacolo Cabaret Please con la regia di Antonello Capodici. Nato qualche anno fa, dopo il premio vinto dai due ottori nisseni al Festival della Comicità di Porto Empedocle e che dal 2016 viene riproposto nei diversi teatri siciliani. L'evento, che rientra tra le iniziative parallele e fuori binari del Festival Miniera Sonde d'Arte, era stato organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Caltanissetta, coinvolgendo il comitato di quartiere San Luca. E domani accoglierà il pubblico però non più nel Giardino delle Legalità, ma questa volta al chiuso al Teatro Regina Margherita alle 21.